Anche l'ACI di Teramo ha celebrato oggi la giornata della sicurezza stradale con le scuole di tutta la provincia di Teramo. La manifestazione si è svolta nella sala polifunzionale della provincia. Sì, questa è la giornata conclusiva di questo percorso formativo che inizia generalmente il mese di febbraio e si conclude a fine maggio con la fine dell'anno scolastro. E' coinvolto circa 680 ragazzi della scuola media, della scuola secondaria di primo grado in tutta la provincia di Teramo. Sono stati coinvolti anche con dei lavori che sono stati poi proposti stamattina? Sì, loro vengono coinvolti da nostri tre istruttori dell'ACI, dell'ACI di Teramo, con un percorso prima formativo, informativo e poi con un percorso pratico. Noi abbiamo già qualche anno fa acquistato un simulatore di moto per cui loro si divertono e soprattutto utilizzano anche, diciamo, giocando un gioco che si chiama la patente appunti che porta loro ad una competizione. Oggi saranno premiati i ragazzi che hanno vinto questa competizione, la patente appunti. Poi, cosa molto importante, noi facciamo in modo tale che i ragazzi si rendano protagonisti di questa formazione loro stessi e durante questi mesi loro preparano un elaborato televisivo che oggi verrà premiato. Ci saranno quattro scuole che saranno premiate con un assegno vero e proprio. Di tutte queste scuole ne sono 16, quattro saranno premiate. Presidente, dopo questo progetto, dopo questo percorso, i ragazzi assumono un atteggiamento diverso, più sicuro, sulle strade, sia alla guida di un'auto che come pedoni? Sì, sicuramente, molto probabilmente, anzi abbiamo la certezza assoluta che loro assumono questa, si responsabilizzano e soprattutto diventano, come dire, istruttori degli adulti, dei genitori, degli zii, di tutte le persone che stanno in famiglia perché molte volte siamo più noi adulti a non essere, come dire, diciamo, a non prevenire tutto quello che può accadere con una guida insicura.